wey hai domenica in tanti auguri mara le mani alzate oh 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 voglio sentire l'intero pubblico che adesso mi canta e crida wow wow yo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dov'è? 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 Ma dov'è il disco di Platino? Disco di Platino? Ma dov'è? 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 Grazie a tutti.